Buongiorno a tutti, Maurizio Torubbia, Università della Calabria. È la prima volta che partecipiamo a questa iniziativa, quindi probabilmente molte cose che diremo o che non dirò sono state già acquisite e hanno un valore di patrimonio sul tema. Siamo nella difficoltà di gestire tutta questa impalcatura della valutazione, della programmazione perché per una serie di sovrabbondante attività legislativa tutto il mondo dell'università, come sapete, è stata di fatti stravolta. Negli ultimi 12 mesi, nella mia come evidentemente nelle vostre università, è cambiato tutto. Solo i muri sono rimasti uguali. È stato rieletto il Senato accademico, è stato rinominato il Consiglio d'amministrazione, è cambiato. Sono cambiati i direttori di dipartimento, sono sparite le facoltà. Il nostro Atene è passato da 6 facoltà e 25 dipartimenti a 14 dipartimenti. È stata ricollocata la metà del personale tecnico-amministrativo, il 100% dei docenti. Sono stati e sono in fase di riscrittura tutti i regolamenti dei nuovi dipartimenti. Ovviamente è stato modificato lo statuto. La Civit ha simpaticamente annoiato tutti quanti noi con una produzione di circolari della serie e non ne possiamo più. A un certo punto scopriamo che si passa all'Anvur. In questo quadro complesso la parte amministrativa era impegnata a cercare di dare uno strumento, con l'aiuto di consulenti esterni, nel nostro caso il professor Capaldo, riuscirà a dare uno strumento che consentisse agli organi di governo di programmare, di fare la programmazione triennale, di creare lo strumento di misurazione e di valutazione di ciò che si faceva. Io però una cosa qui vorrei che fosse detta forse con più forza e mi aspetterei da tutti i colleghi una partecipazione forte a questa cosa. Allora, il legislatore ci parla di valutazione, di necessità della valutazione. E vabbè, la facciamo. Ci organizziamo e ci valutiamo. Di dotarci degli strumenti informatici. Vediamo dove li possiamo prendere. Ma tutti, tutti abbiamo grossi problemi di risorse. Io, che sono insieme al collega Vizzari, nella struttura che si occupa di supporto alla programmazione, valutazione e quant'altro. Credetemi, ho vergogna a parlare di valutazione delle performance individuali. Stiamo parlando di un'attività progettuale che ha valori probabilmente non quantificabili. Nel privato, l'attività che viene fatta dagli uffici qui presenti, che studiano, progettano, elaborano il sistema di pianificazione, programmazione, quale strumento informativo e quant'altro. ha un valore alto. Per fare che cosa? Per attribuire alle persone 200 euro, nel nostro caso. Cioè, un processo che dura 12 mesi, che sta impegnando tutte le strutture universitarie per ripartire 200 euro. Io personalmente credo che stiamo perdendo tempo. Cioè, se questo è il risultato di quello che dobbiamo fare, stiamo perdendo tempo. Ci ho detto, vi spiego, o meglio, cerco di raccontarvi che cosa abbiamo provato a fare. Allora, vabbè, queste ve le evito perché è evidentemente ciò che facciamo tutti e ciò che evidentemente anche voi fate. Cioè, che cos'è il ciclo della gestione? È inutile che ci perdiamo tempo. Questo è, in estrema sintesi, il risultato della riforma del sistema universitario. chi programma, chi dà delle indicazioni e chi, evidentemente, si assume la scelta politica della programmazione. Questo è sostanzialmente la rappresentazione grafica di ciò che è sostanzialmente il modello a cui l'Università della Calabria tende nella gestione complessiva del sistema di gestione e misurazione della performance. Nella parte bassa della piramide, organizzativa e individuale, c'è evidentemente la parte che dovrebbe essere, come dire, alimentata, gestita dal cosiddetto modulo controllo di gestione, che ha dei costi e che non sappiamo se ce lo possiamo permettere. Nota a margine. La parte alta, globale, è quella che sostanzialmente dovrebbe essere gestita da un controllo, non di gestione, ma da un controllo strategico che sta nella possibilità di recuperare alcuni significativi indicatori che danno, dovrebbero dare, alla direzione, all'alta direzione e agli organi di governo la possibilità di avere il quadro di sintesi delle voci strategiche scelte per l'anno in questione. La parte, quel sistema premiante che sta lì, è quello, come dire, dovrebbe essere uno, per me che sono della componente tecnica amministrativa, dovrebbe essere uno degli aspetti più qualificanti di tutto questo processo. Guardate, non ne faccio solo una questione meramente, squalidamente economica. Allora, la domanda che dovrebbe stare dietro a tutto questo che io ho apprezzato nelle presentazioni di tutti i colleghi è, ma quando il Ministero mi dice che, come Ateneo, ho una percentuale di assegnazione del punto organico 20 più delta, vuol dire che sono stato virtuoso, se c'è quel delta vicino al 20%, ma poi vedo che per uno strano algoritmo il mio Ateneo, come molti altri Atenei, ha una percentuale del punto organico nazionale che è molto al di sotto, nemmeno del 20%, ma del 15%, del 10%, allora vuol dire che c'è un sistema previsto di misurazione delle performance di Ateneo che doveva produrre degli effetti, ma quegli effetti non li ha prodotti e quindi parliamo della, come dire, della misurazione, del valore del sistema università e quello dovrebbe essere il sistema alto, ma già lì siamo perdenti. Quando poi entriamo nei singoli Atenei succede la stessa cosa, il singolo dipendente ha davanti una prospettiva che gli viene dato dal suo diretto responsabile, perché poi ognuno è sempre a sud di qualcuno, per cui alla fine si arriva al singolo operatore che avrà il singolo obiettivo, uno o due obiettivi cosiddetti operativi. Se li raggiunge e li raggiunge poi con, come dire, sacrificio incredibile, perché noi abbiamo fatto all'inizio d'anno, insieme con il delegato alla programmazione, che è un docente evidentemente, quindi l'ufficio insieme al delegato, abbiamo fatto una serie di incontri di negoziazione con tutti i responsabili, dirigenti, quindi dirigenti di aree, responsabili di uffici o di unità operative complesse, ma la prima cosa che veniva detta a tutti, appena si sedevano, non chiedere soldi e non chiedere unità. Allora, come dire, ragionare sul recinto chiuso da subito, allora mi chiedo a chi giova, o a che cosa è, chiediamo di raggiungere, chiediamo di migliorare delle prestazioni, ma sostanzialmente sappiamo che abbiamo dei problemi strutturali seri. Allora, ripeto, sto parlando per il mio Ateneo, va bene? Parlo per il mio Ateneo, ma ho il sospetto che, stante le voci che vengono dalla Cruy e da tanti altri colleghi sentiti in modo spaventato, è una questione che mi pare si condivide, questa drammaticità, per cui, come dire, c'è un fatto serio sul quale mi piacerebbe che ci fosse, non in questa sede perché mi rendo conto che non è la sede giusta, ma ci fosse una riflessione. Comunque, detto ciò, l'obiettivo sarebbe questo. C'è però, per quello che dicevo prima, per questo grande disturbo operativo dato dalla forte attività legislativa dal Ministero prima e da tutti gli organismi poi che stanno sotto, gli organi politici di fatto sono stati assorbiti, impegnati e coinvolti nel riorganizzare tutto l'Ateneo, per cui è successo che sotto la parte amministrativa riusciva a procedere nella progettazione. Il professore Capaldo sa più o meno gli sforzi fatti e ciò a cui abbiamo, come dire, il risultato verso il quale siamo riusciti ad arrivare. Però c'è un problema. Se la parte, come dire, teorica viene costruita e poi può diventare strumento perché la parte politica non riesce ad acquisirlo, poi lì, come dire, si crea sta frattura. Però il modello è questo. Per cui, come dire, è sostanzialmente, ovviamente replica tutto quello che anche voi avete già detto. È a cascata, chiaramente abbiamo dovuto fare un minimo di fotografia, come ci siamo organizzati. Questa, se riuscite a vederla in qualche modo, è la organizzazione del nostro Ateneo, parte alta di indirizzo. Sotto il Rettore ci sono tutti i delegati, compreso il progettore. Sotto la linea rossa c'è la parte esecutiva. Il direttore generale con tutto l'apparato che riguarda dirigenti, come vi dicevo, uffici di staff e unità operative complesse. Dopo c'è la parte... e questa è, come dire, di fatto l'articolazione della gestione operativa degli obiettivi strategici. Dal Consiglio di amministrazione, direttamente dal Direttore generale, per la parte che riguarda evidentemente attività amministrativi di servizi e di supporto, e con l'organizzazione interna di un'area tipo, che è sostanzialmente la rappresentazione grafica anche di come vengono poi spalmati e attribuiti gli obiettivi da strategici ad operativi. Il dirigente dell'area diventa destinatario di un obiettivo strategico. Sotto il Direttore generale ci sono quelli che dovranno fare diventare quell'obiettivo strategico, obiettivo operativo. E quindi saranno i capi sezioni, i capi settori, i responsabili di ufficio, fino ad arrivare al semplice obiettivo operativo, evidentemente. Questa è la nuova organizzazione dipartimentale. Una operazione secondo me correttissima che è stata fatta nella nostra università è stata quella di provare a salvare, siccome c'erano nella vecchia organizzazione dipartimenti facoltà, c'erano 25, 6, 31 operazioni, scusate, 31 posizioni organizzative. Quindi c'erano 6 segretari di facoltà, 25 segretari di dipartimento, totale 31. Passando a 14, chiaramente si rischiava di perdere delle posizioni organizzative. Il problema lo si è affrontato e è risolto secondo me brillantemente in questo modo. I dipartimenti sono organizzati con tre settori, settore didattica, settore ricerca, settore amministrazione. Non si sono perse posizioni organizzative. E diciamo ci sta. Ci sta perché, come dire, ci sono delle competenze che possono essere articolate e seguite in questo modo. In estrema sintesi, la mappatura che noi abbiamo fatto è riportata qui. C'è l'Ateneo e dimensione 0, diciamo qui 1, che è praticamente quel luogo dove poi di fatto confluiscono tutte le informazioni che dal basso si alimentano, che dal semplice obiettivo operativo poi diventa obiettivo strategico e confluisce in alto nell'Ateneo, che è quello che poi deve rendere conto al Ministero, Pro 3 e tutto quello che conosciamo. E sotto il direttore generale poi, come vedete, ci sono non solo articolazioni primo, secondo e terzo livello di strutture, che siano dipartimenti, ma ci sono anche le figure professionali. Nei centri di primo livello ci sono le aree e dipartimenti, dove per aree intendiamo dirigenti, per dipartimenti intendiamo direttori di dipartimenti e ovviamente docenti. Il tentativo è quello di portare a valutazione il direttore di dipartimento esattamente come un dirigente. Questo è il tentativo nel modello a cui noi abbiamo pensato. Il secondo livello è di solito unità operativa complessa o chiuso. Sistemi di mappatura, poi se volete ve lo guardate, se potete trovare qua, qualche elemento di interesse. Questo era il sistema di valutazione delle performance così come pensato con il professor Capaldo. Ripeto, poi eventualmente ve lo potete anche guardare nel dettaglio con tutte le voci di sottosistema. E qui alla fine c'è ciò su cui si cerchi di lavorare, anche evidentemente stimolati dalla partecipazione a questo progetto. Vi ripeto, per fortuna io vedo che nell'università, quindi anche nella mia modestamente, non mancano le capacità mentali. Siamo veramente criticamente incasinati con quelle economiche. Grazie a tutti, buona giornata.